Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa sai fare? Allora balliamo. Che carino che sei. Come posso averti? Ottimo, grazie. A presto. Allora siamo molto emozionati prima di tutto, anche pieni di orgoglio per presentarvi Roby, creazione giapponese che portiamo naturalmente in Italia, dove sta l'etport di Agostini, con un prodotto che è veramente coerente proprio con lo sviluppo e l'evoluzione di Agostini in tutti questi anni. Apparteniamo a un grande gruppo, abbiamo l'onore di portare il nome di Agostini in giro per il mondo e continuiamo questa tradizione, cominciata addirittura negli anni 50, di rendere accessibile la cultura, i contenuti, le conoscenze, in questo caso le tecnologie. Quindi Agostini dà la sua interpretazione e il suo modo di portare a tutti, allargando il più possibile il mondo, il tag di riferimento, la robotica. Quindi Roby vedetelo anche come un passo di un cammino di una società italiana che è orgogliosa di essere italiana, che è una multinazionale e che ha una grande storia alle spalle e che sta in mezzo a tutte le difficoltà e le complessità dell'economia di oggi e del mondo di oggi, facciamo una direzione molto netta, molto sicura dal punto di vista dello sviluppo ulteriore. Partiamo sempre dalle passioni dei nostri consumatori, quindi siamo un editore molto specializzato, vado a cercare proprio di provocare degli interessi, di appassionare il cliente finale. E lo facciamo sempre di più attraverso un prodotto, dei concetti di prodotto, che non sono solo editoriali puri, ma che hanno una componente fisica importante, che sono sempre più digitali. Cioè, qualsiasi cliente nostro si aspetta di trovare un contenuto editoriale molto ben fatto, ma immediatamente dopo va sul web e continua a godersi il prodotto in un ambiente completamente diverso. Questo è un po' il cammino che stiamo facendo.